Duro colpo ad un'associazione per delinquere operativa da oltre un decennio, quattro persone in manette, interdetti dalla professione due avvocati e sei medici, 23 gli indagati in Stato di Libertà. Dalle prime luci dell'alba a Napoli, Aversa, Vinturno, Melito di Napoli, Curti, Piano di Sorrento e Servigliano, i carabinieri della compagnia Vomero stanno eseguendo un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della locale procura della Repubblica. I destinatari, assieme ad altri 23 indagati in Stato di Libertà, sono gravemente iniziati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alle truffe assicurative, con fraudolento danneggiamento di beni assicurati e ricorso a certificati medici falsi e lasciati da medici compiacenti, riciclaggio, indebita percezione del reddito di cittadinanza e furto aggravato. In particolare le indagini hanno consentito di delineare il modus operandi del sodalizio, all'interno del quale erano ben definiti i ruoli di capo, promotori e partecipi tra i quali figurano due avvocati e diversi medici, tra cui quattro in servizio presso il pronto soccorso degli ospedali di Marcianise e San Giovanni di Dio di Fratta Maggiore, mentre altri due operavano in centri diagnostici privati. Il meccanismo prevedeva un'iniziale fase di pianificazione della dinamica del sinistro, con l'individuazione delle parti da coinvolgere, dei finti testimoni, del medico e del pronto soccorso di riferimento da cui farsi rilasciare referti per inesistenti lesioni. Successivamente venivano coinvolti i sanitari dei centri diagnostici e dei poliambulatori, presso i quali venivano effettuate le visite successive a quelle di pronto soccorso e dichiarazioni compiacenti che avevano il compito di predisporre la documentazione falsa relativa ai danni subiti dai veicoli coinvolti. A questo punto entravano in gioco gli avvocati che istituivano le pratiche per farsi sinistri stradali e che concordavano le dichiarazioni dei finti testimoni. Il profitto del reato della truffa assicurativa, una volta incassato, veniva poi movimentato e prelevato in maniera frazionata nel tentativo di dissimularne la provenienza illecita.